Qual è stato il momento più felice su un campo di calcio per te? Guarda che io sono contento sempre quando entro in campo. È stato contro il Cesena, quello che ho fatto un bel gol, contro il Bari, che abbiamo vinto all'ultimo, a 92esimo, che ho fatto 2-1. Tutti i momenti belli, quelli lì, tutti i ricordi belli. Chi è il più forte con cui hai giocato? Di Natale, Caracciolo, c'è un assiste che ho fatto che io mi ricorderò per tutta la mia vita, che lo parlo tutti i giorni, di Cesare mi dà la palla, io ho girato di spalla, mi fermo la palla e di tacco, senza guardare, lo do Caracciolo davanti alla porta. Però lui stava già correndo, lui già sapeva che io la davo. E Olivero è uguale, Olivero sapeva dove andavo io e mi dava la palla. Budel, Budel per me è un altro. Però se ti chiedo il più scarso lo sai? No, non ti posso dire.